La maculopatia intanto è legata all'età ed è una deviazione del metabolismo della nostra retina, nel punto centrale quello che usiamo per vedere, che è frutto dell'accumulo di sostanze di scarto. Questo avviene ovviamente pian piano che la nostra età va avanti e per correggerlo si può effettuare una prevenzione. La prevenzione è a base di sostanzialmente integratori dell'alimentazione che migliorino l'apporto di questi nutrienti che vengono a mancare per evitare che la nostra retina devi il suo metabolismo. Quindi la prevenzione è importantissima. E poi, nel caso sia necessario, è vero che si fa una puntura, ma le punture le facciamo in tante occasioni, però è più importante definirla un gesto di farmacochirurgia. Cioè, noi abbiamo delle zone assolutamente indolori dell'occhio, cieche per cui non provochiamo alterazioni della vista, attraverso le quali con un gesto rapido di indolore andiamo a depositare esattamente nel punto giusto, quindi senza far patire all'organismo effetti collaterali, una goccia del farmaco necessario per curare questa benedetta maculopatia. Ecco, è una puntura che si fa una volta per tutte o va ripetuta? Questo gesto di farmacochirurgia, quindi questa terapia, definiamola intravitreale, quindi andare a portare questo farmaco esattamente nel punto giusto, bisogna ripeterla più volte perché dipende dalla capacità di reagire dell'organismo. Possiamo quindi dire che non è invasiva e non ha conseguenze negative sulla vista? Diciamo che, come tutte le terapie, può avere, come qualunque gesto chirurgico, una percentuale di complicanze, ma fortunatamente sono estremamente contenute. Ma soprattutto che quando è fatta nel tempo giusto, perché bisogna agire prima che le strutture anatomiche dell'occhio siano distrutte, bene, questa porta degli immediati e ottimi risultati. Ma è molto importante parlare di prevenzione, perché bisogna accoggersi per tempo che si incomincia ad avere una maculopatia. E sa come si fa? Con un sistema molto semplice. Si guarda... Che cos'è questo? Una semplice foglio a quadretti, detto test di Amsler. Si guarda con un occhio solo, con gli occhiali da vicino, il punto centrale e si osserva se queste righe quadrettate, che ovviamente sono dritte, ci vengano restituite, deformate, o quanto peggio, con un buco. Questo è il sistema migliore per riuscire a capire se abbiamo un principio di maculopatia. Nel caso ci dobbiamo rivolgere prontamente all'oculista per poter ricevere le cure più opportune, che non è detto assolutamente che siano la famosa e terribile terapia intravitreale. Ma soprattutto dobbiamo ricordarci che oltre a questo c'è la possibilità di prevenire e di capire quanto possiamo essere deboli nei confronti della maculopatia con addirittura un test genetico. Il test genetico non è come si pensa una previsione, una condanna, tu avrai la maculopatia, assolutamente, e dire guarda hai una predisposizione, quindi per tempo facciamo le opportune cure per allontanare le probabilità che ti venga una maculopatia. Dottor Di Carlo, lo ringrazio per averci dato questo suggerimento, che è un file da te a casa, che possiamo fare in un normale foglio a quadretti. C'è però un sintomo che ci deve far larmare? Si vede in qualche modo in maniera strana? Incominciamo ad avere una visione annebbiata come un punto centrale che si allarga progressivamente di visione annebbiata, ahimè, proprio nel punto dove noi vogliamo osservare meglio le cose, che è la regione centrale della retina. E quindi attenzione a questi aspetti. Soprattutto attenzione se colpisce un solo occhio perché il nostro meccanismo visivo tende a compensare con magari l'occhio che vede bene. Quindi far sempre le prove è un occhio alternato e non spaventarsi perché questi stessi sintomi possono essere comuni, per esempio anche a una forma iniziale di cataratta, che è una patologia molto più semplice da risolvere.